Sono 259 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in tutta la provincia. Nissena, 90 sono i pazienti di Gela, 65 quelli di Caltanissetta, un numero inferiore agli 80 che non si vedeva già da tempo. E invece sono 50 i pazienti ricoverati in malattie infettive, dei quali 13 sono Nisseni, 16 sono di Gela. Per ciò che riguarda la città di Caltanissetta, 865 i positivi in quarantena domiciliare, mentre sono 1.366 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, per un totale di 3.967 positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. Non ci sono né ricoverati né i reparti di terapia intensiva.